nome mara tre aggettivi che ti rappresentano veloce curiosa e positiva cosa fai nella vita direttrice di sala la corte dei brut perché tra tanti posti hai scelto di lavorare proprio qui perché mi piace tantissimo il posto perché sono miei grandissimi amici da tanto tanto tempo e perché tra l'altro nel tempo si è creata una squadra impareggiabile un abbinamento un piatto particolare da consigliare certo tantissimi per esempio il bastone dello stelvio a me piace tantissime contro filetto arricchito con fettine di spec a volte su un bastone di frassino gustoso interessante un aneddoto qui della corte un aneddoto alla corte dei brut essendo un'associazione culturale non è soltanto cibo quindi passano i personaggi più strani e particolari che ci sono per dirvene una una serata di presentazione con gente tutta elegante tutti vestiti bene le signore con i tacchi si presenta questo nostro collaboratore completamente a piedi scalzi con una maglietta strappata dietro che faceva vedere in bella vista i suoi tatuaggi risultato della serata anziché portare lo scompiglio tra tutti è diventato la calamita della serata e ogni persona era entusiasta di andarli a chiedere e sapere qual era la sua vita e il perché quindi qui di cose ce ne sono da raccontare ogni giorno se fosse una canzone let me entertain you the queen